Musica Potrebbe essere un accostamento un po' originale, in realtà si inserisce perfettamente a nostro avviso in quella che è la nuova missione dei musei, scolpita dalla Convenzione di Faro. Non stare dentro nei propri luoghi a costudire tesori, ma cercare di portare questi tesori straordinari nella vita della città. Quale migliore occasione di questo allestimento di una fiera dove passeranno centinaia di migliaia di persone per mostrare quello che è il più grande tesoro della nostra città, la vittoria alata, simbolico anche in questo momento, in vista di questo ritorno e di una ripartenza, perché la vittoria alata ci è stata restituita nuova vita e ci accompagnerà nello sviluppo futuro della città. Quindi un'occasione straordinaria per mettere insieme il tesoro della città culturale in un accompagnamento che accompagnerà appunto lungo tutto il percorso della vaccinazione con una progressiva scoperta il soggetto che verrà a fare la vaccinazione. È evidente, è un duplice accompagnamento, una scoperta della vittoria alata e la vittoria alata che prende per mano il vaccinando e lo conduce fuori da questo percorso. Credo che sia davvero un'attuazione bellissima di questa idea nuova del museo che sta dentro la città e accompagna e cura con la cultura le persone che vivono nei luoghi della città. La nostra è un'istituzione plurisecolare, abbiamo oltre cinque secoli di storia, abbiamo un patrimonio artistico importantissimo e la storia della medicina ha una componente anche artistica, il bello, la cultura, non si distingue spesso dalla cura. Allora noi volevamo, accogliendo quest'idea della Fondazione Musei di Brescia, di legare la vittoria alata al centro vaccinale, fornire un ulteriore punto di speranza verso il futuro, la vaccinazione come momento per uscire dalla grande crisi e richiamare anche il mondo di Brescia 2023, città della cultura europea. Abbiamo pensato che fosse una buona occasione, vista la grande visibilità che la comunicazione avrà in queste settimane, molti cittadini passeranno da questo padiglione fieristico, da questo centro vaccinale, quindi l'occasione di promuovere le attività culturali della città era troppo ghiota per lasciarsela sfuggire. E quindi abbiamo realizzato insieme a Fondazione Brescia Musei e a SST, gli spedali civili, questo allestimento che promuove appunto la conoscenza della vittoria alata, una figura ormai iconica che credo rappresenti davvero la vittoria di Brescia su tutte le difficoltà che il territorio ha vissuto in questo periodo, sia di natura sanitaria che di natura economica. Io credo che la visita del Presidente Mattarella mi piace pensare che sia proprio per rendere omaggio ai valori che il territorio rappresenta, ai valori fondanti della nostra comunità, tra i quali il lavoro è certamente uno dei più importanti. E io dico che senza il lavoro, la capacità organizzativa, la collaborazione, una realizzazione di questo genere non sarebbe stata possibile.